Ben ritrovati amici stellari, iniziamo subito con il segno della riete. Il settore dei viaggi, delle relazioni e dei nuovi contatti sarà molto favorito. Oggi avrete delle grandi opportunità per aprire o chiudere, secondo le circostanze, alleanze nel settore professionale. Potete anche sfruttare la tendenza per una problematica di famiglia, in sospeso ormai da troppo tempo. Toro, favoriti gli iscritti, giornata ideale per concludere un contratto di compravendita. La vostra tempestività, oltre che correttezza, vi apporterà un buon affare. Un coniuge benestante sarà ben lieto di condividere con voi una risorsa finanziaria di famiglia. Gemelli, siate così, più allegri, perché siete troppo giù di tono. Poche energie da impiegare, vi sentite stanchi. Ma la giornata è quella ideale per concludere quante più cose è possibile. Da lavoro alla casa, alla vita affettiva, sforzatevi e mettetevi al lavoro. Si apre una nuova finestra nella vostra vita, nella vostra esistenza. Nuova, direi. Sappiatela sfruttare, allora. State andando incontro a una venere strepitosa, meravigliosa. Ma se non vi darete una mossa, sarà tutto perso. Iniziate da oggi. Progettate un futuro che si preannuncia speciale. Cancro. Amicizie influenti che in questo momento saranno più preziose del loro. Se avete un progetto che non decolla, una situazione a lavoro, stantia che non vi dà serenità, e magari un contatto importante che inseguite da tempo e non riuscite ad agganciare, beh, il detto un amico vale più di un tesoro sarà un arcano che magicamente vi risolverà una serie di particolari problemi. Il suo intervento sarà un toccasana per poter finalmente concludere qualcosa di buono. Leone, siete realizzati a fetti sinceri e solidi, un lavoro che onorate con molta professionalità e impegno, una famiglia che vi rende sereni tutto sommato. Un solo problema che, se sarete così pazienti, si risolverà a breve. Quello delle risorse economiche che non sono soddisfacenti, o meglio direi, proporzionate all'impegno che mettete. Sarà meglio accontentarsi, non fatevi prendere dalla foga, non è il momento per lamentarsi. Attendete con pazienza, piuttosto chiuderete un'amicizia. Da oggi meno quantità e più qualità. Vergine, sarete innovativi, cari amici della Vergine. Stravolgerete un po' quello che è il vostro solito tron-tron. Il primo effetto lo riscontrerete nel settore del lavoro. Sorprenderete chi da anni collabora con voi e non vi ha mai visto così spinti verso una nuova avventura professionale, che tra l'altro si annuncia anche piuttosto tortuosa, però Venere e Giove vi agevolano. Spinti dal suo potere, questa meravigliosa stella quale Venere, assentite il bisogno di rimettervi in gioco una vera e propria esigenza di adrenalina. Non sbaglierete se vi comporterete alla stessa maniera della vostra coppia. Era ora di sorprendere il partner con effetti speciali. Bilancia. Siete in buone mani, avete stelle compiacenti e favorevoli. Non è ancora giunta l'ora di esultare, ma l'atmosfera intorno sarà piacevole e avvolgente. Giove, nel solido segno della Vergine, nella vostra dodicesima casa, vi supporta dagli ultimi attacchi stellari. Adesso non saranno battaglie perse, è giunto il momento di avere anche le idee chiare sul da farsi. Aumentano le finanze, i giovani si metteranno in viaggio. Scorpione, se l'arte amatoria è sempre stata la vostra punta di diamante, fatene largamente uso nella coppia. State perdendo il gusto di vivere le relazioni come la vostra natura detta. Allora, metteteci più vigore, ma anche allegria, tranne che avete scoperto di non essere più tanto presi dal partner ufficiale. E allora, miei cari o miei care, è arrivato il momento di chiedersi il perché. Evitate soprattutto le falsità. Sagittario. Oggi si chiude una relazione, non siate indecisi o preoccupati. Sapete bene quello che fate. Avete seguito il vostro cuore, anche se preferivate che ciò non accadesse. Se il pericolo che pensate di correre sarà relativo a un vostro ripensamento, allora tirate innanzi perché difficilmente tornerete sui vostri passi. Un comportamento impeccabile il vostro, sempre con rispetto e affetto, ma già la sarete molto lontani. Capricorno. Stelle favorevoli nella casa dei piaceri e dei divertimenti. Concedetevi qualche follia che renda vivi. Oggi il famigerato lunedì sarà ricordato come un giorno da ripetere. Vi farete prendere da quelle voglie che spesso arrivano inaspettate. Questa volta le soddisferete tutte. Del resto ve lo potrete permettere. Avete chiuso in positivo il vostro bilancio annuale di verifica. L'attività lavorativa va gonfie vele e il vostro impegno è ripagato. Acquario. Amori che vanno, amori che vengono, amori che tornano però. Chi inizierà una nuova storia, banali insicurezze, non mancheranno, ma ne varrà la pena viverla. Anche se ne avete appena chiuso una, tranquillizzatevi, sarà un rapporto sicuramente molto più piacevole e spensierato del precedente. Pesci, se una relazione si interromperà vorrà dire che non andava al caso vostro. Beh, del resto con queste strepitose stelle e maggesi non ci saranno problemi per relazionarvi con chi vi andrà. Un viaggio per chiudere una faccenda che ormai portavate troppo alle lunghe. Il segno favorito del giorno è il bilancia. Un abbraccio stellare da Lucia Rena. Un abbraccio stellare da Lucia Rena. Un abbraccio 레�field. Un abbraccioắn che segnare da Lucia Rena. Un abbraccio火ilice. Un abbraccio acetate. Un abbraccio perpetrano, ma a direttize, su vadire questa flama. Un abbraccio alle lunghe. Un alabbraccioашno.